Un incidente spaventoso avvenuto poco dopo l'abitato di Guarda Veneta per chi sulla regionale Eridania proceda verso Crespino. Un impatto violentissimo tra un furgone finito semidistrutto nella scarpata a bordo strada e un SUV che pure ha riportato danni devastanti nella parte anteriore. La dinamica è ancora da ricostruire ed è assolutamente troppo presto per ipotizzare la responsabilità. Ad avere la peggio, un bambino finito ferito in maniera piuttosto seria portato in ospedale in elicottero non dovrebbe comunque essere ferito in maniera troppo grave. In immediato l'intervento dei vigili del fuoco e del SUEM, i pompieri in particolare, oltre a consentire ed agevolare i soccorsi, hanno dovuto anche gestire la situazione dal punto di vista della viabilità, aiutati da un volontario, un compito svolto con la consueta professionalità.